Una tipologia di test abbastanza frequente nei test d'ingresso all'università e nei concorsi è quella che richiede di abbinare tre termini alla relazione insemistica corretta. Allora impariamo a svolgere questa tipologia di esercizi. Abbiamo l'insieme dei cavalli, l'insieme dei mammiferi e l'insieme degli animali volanti. Trova la rappresentazione corretta se vuoi metti pausa. Tra pochi secondi vediamo lo svolgimento. Due veloci consigli prima di cominciare. Non partire dalle figure che ti vengono date perché sono numerose e se devi studiarle una a una per abbinarle ai tuoi termini perdi un sacco di tempo. Invece parti dai termini, costruisci la relazione insemistica e poi vedi a quale assomiglia di queste. Seconda cosa, non analizzare tutti e tre i termini insieme perché si rischia di fare confusione. Ma ne scegli due, li rappresenti a livello insiemistico e dopo rappresenti anche il terzo insieme. Cominciamo col considerare l'insieme dei cavalli e dei mammiferi. Tutti i cavalli sono mammiferi quindi è un sotto insieme ma alcuni mammiferi non sono cavalli per cui questa è la rappresentazione corretta. Ora introduciamo anche gli animali volanti. Qua bisogna anche conoscere un pochino di biologia. Se pensi ad esempio ai pipistrelli che volano e sono mammiferi e quindi c'è un'intersezione in questo modo. Invece nessun cavallo vola e quindi l'insieme dei cavalli rimane a parte. Per cui se facciamo un confronto con le figure possiamo notare che la risposta corretta è la 7. Se sei interessato ai quiz di logica sul mio canale YouTube puoi trovare una playlist dedicata. Ce ne sono molti e molti altri ne aggiungerò a breve. Quindi puoi iscriverti al canale, salvarla e rimanere in contatto. Grazie per l'ascolto. Alla prossima.